E' quasi tutto pronto a Carmagnola per la 66esima edizione della Sagra del Peperone. Dal 28 agosto al 6 settembre la manifestazione avrà una veste diversa rispetto alle passate edizioni. Il programma è ricco di appuntamenti che avranno come protagonista il Peperone in tutte le salse. Tra gli animatori della rassegna ci sarà il Mr. Papillon, il giornalista e no gastronomico Paolo Massobrio, che interverrà in una serie di appuntamenti dedicati negli spazi del nuovo Salone Peperò. Tra tutti i talk show e gli incontri in programma spiccano il Peperone, prodotto identità del territorio, dove Massobrio dialogherà con l'assessore all'agricoltura della regione Piemonte, Giorgio Ferrero, e altri ospiti. Seguirà quindi Nergi Pepper, una sfida italiana in cucina che vedrà scendere in campo due agguerrite squadre di food blogger pronte a sfidarsi a suon di forchette nell'interpretazione di due prodotti principi della serata, ovvero il Nergi e il Peperone. Domenica 30 è dedicata all'Expo nell'ambito dell'incontro da Carmagnola a Expo sui colori del Peperone, dove Paolo Massobrio interverrà insieme al giornalista Vincenzo Reda, mentre la griglia sarà protagonista il weekend successivo, sabato 5 settembre, con la lezione sulla cottura su fiamma a cura del griller Gianfranco Locascio, autore del libro Diventare Grillmaster, la via italiana al barbecue. Domenica 6 settembre, gran finale con La leggerezza del giallo, come un peperone. Per l'occasione, il giornalista incontrerà il vincitore della terza edizione di Masterchef Italia e lo scrittore best seller Giulio Massobrio.